Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel Con il video di oggi vorrei aprire un altro concorso sul mio canale che riguarda trovare una simmina per il nostro caro vampiro Nathaniel Wood In realtà l'idea me l'ha data uno di voi che nei commenti ha scritto se non riesci a trovare una sim per Nate perché non fai un concorso relativo e quindi dato come è andato l'ultimo episodio perché se vi ricordate noi abbiamo provato ad iniziare una relazione con Candy però lei ci ha rifiutato e visto che comunque di simmine carine in giro non ne ho ancora trovate ho detto perché no, quindi ho accettato questo consiglio e ho deciso così di aprire un nuovo concorso Allora, lo scopo del concorso è quindi quello di trovare una simmina per il nostro Nate Io ve l'ho rimesso qui nel casso perché vi voglio ricordare che lui è un vampiro che ha l'aspirazione di diventare un vampiro buono quindi come tratto associato, associevole Inoltre lui è un amante della musica è un po' pessimista ed è appunto buono Quindi per creare una simmina adatta a lui basatevi non soltanto sull'aspetto fisico ma anche un po' sui tratti che possono andare bene con lui in modo che vadano d'accordo Allora, vi dico qualche regola generale di questo concorso tanto sono poche e piuttosto semplici Tanto per cominciare potete creare la simmina come volete l'importante è che utilizzate soltanto il materiale del gioco quindi niente cc quindi niente materiale scaricato ma soltanto materiale del gioco va bene sia le cose del gioco base ma anche delle espansioni, dei game pack come volete basta che non siano cc Poi, altra regola importante è che le creazioni devono essere originali quindi dovete creare la sim voi a partire da zero quindi non va bene se cercate una sim in galleria poi magari la modificate e la fate partecipare al concorso devono essere delle creazioni originali vostre e basta anche perché il gioco comunque me lo dice chi è il creatore originale di quella sim quindi io me ne accorgo e sono poi costretta a non prenderla in considerazione tra i vincitori per cui le creazioni devono essere vostre originali e un'altra cosa la sim deve essere umana nonostante niente sia un vampiro perché se vi ricordate io ho fatto un sondaggio a riguardo e la maggior parte delle persone ha votato per far stare niente con una sim umana quindi la simina deve essere umana anche perché sinceramente io non so poi come andrà avanti la storia di niente cioè se farlo rimanere un vampiro oppure un giorno curarlo dal vampirismo e farlo tornare umano non lo so vedremo comunque la simina deve essere umana un'ultima cosa è che potete far partecipare al concorso solo una simina a testa in modo che così abbiate tutti la stessa probabilità di vincere perché se alcune persone mi mandano ad esempio 10 sim è ovvio che abbiano più probabilità di vincere rispetto a chi ne manda solo una quindi per mettervi tutti alla pari vi pregherei di mandare una sola creazione a testa ecco ultima cosa il concorso inizia da oggi e scadrà il 31 di marzo quindi avrete circa una decina di giorni per poter partecipare dopodiché dopo tale data io farò il video che annuncia la vincitrice del concorso e da quel momento in poi entrerà a far parte del gameplay della serie dei vampiri allora adesso per chi non conosce come ho fatto i concorsi precedenti vi spiego brevemente come fare per poter partecipare e per poter votare le simmine che vi piacciono e che vorreste che vincessero allora tanto per cominciare create la vostra simmina dopodiché andate a salvare la vostra creazione nella vostra liberia quindi come fare a questo punto per poter condividere la simmina in galleria e farla partecipare al concorso ve lo faccio vedere in breve dovete andare nella vostra galleria come prima cosa per cui apri la galleria a questo punto andate sulla mia biblioteca e scegliete la simmina che volete far partecipare io adesso ne prendo una a titolo di esempio poi la levo dalla condivisione scegliamo Jordan va quindi voi cliccate sulla sim che volete far partecipare e per fare in modo che io trovi la vostra sim dovete scrivere qui dove vi dice descrizione un hashtag che è questo qua cancelletto e poi scrivete questa frase una sim per Nate Wood ecco qui questo è l'hashtag che dovete scrivere una sim per Nate Wood tutto attaccato e tutto minuscolo io poi vi scrivo quest'hashtag anche nell'info box sotto al video così potrete copiarlo tranquillamente a questo punto una volta che avete scritto andate a condividere l'unità familiare nella galleria quindi cliccate su questa novoletta e la vostra simina sarà condivisa e quindi a questo punto avrà preso parte al concorso perciò adesso come fare se invece volete votare delle sim allora molto semplicemente andate in comunità e vi cliccate su hashtag e scrivete quindi l'hashtag che abbiamo scritto poco fa questa volta non dovete mettere il cancelletto perché ve l'ho già inserito quindi dovete scrivere soltanto la frase di prima una sim per Nate Wood e premete invio a questo punto vi appariranno qui tutte le simine che prendono parte al concorso adesso c'è solo Jordan però ovviamente se partecipate in tanti ci saranno tante simine per poter scegliere chi votare quindi come fare per votare voi vi sfogliate tutte le sim che partecipano al concorso dopodiché scegliete quella che volete ci cliccate sopra e a questo punto premete qua per fare il download nella vostra libreria in questo modo la simina verrà scaricata e qui comparirà il numero di download cioè il numero di volte che è stata scaricata quindi la vincitrice del concorso sarà la simina che avrà ricevuto più download e quindi più votazioni non c'è un limite sulle sim che potete votare cioè se ve ne piace una sola votate solo quella sim se vi piacciono più simine potete votare anche più simine ecco sulla votazione non c'è un limite quindi appunto la simina vincitrice diventerà la compagna di Nate diventerà a far parte del gameplay principale io con questo credo di aver spiegato tutte le regole principali vi riscrivo brevemente tutte le regole nell'info box al di sotto del video in modo che così avrete anche un riferimento scritto e se c'è qualcosa che non avete ben capito chiedetemelo pure nei commenti e magari scrivetemi nei commenti anche se avete intenzione di partecipare così io mi faccio un'idea un po' di quanti siete quindi con questo video ci fermiamo qui spero che l'idea di questo concorso vi piaccia e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao